signori buongiorno e bentornati sul canale del master kai io sono il master kai e il vostro ospio è su questo canale ultimo video per questa terza stagione del canale del master kai come sempre dedicato a una lezione di storia anche questa volta ritorniamo negli psichedelici anni 70 abbiamo già parlato di come si è nato e si sia sviluppato il gioco di ruolo con l'avvento di dungeons and dragon della tsr ma ovviamente dungeons and dragon non restò isolato a lungo nello stesso periodo nacquero altri titoli di gioco di ruolo storici che hanno influenzato e continuano influenzare la cultura e il gioco di ruolo anche i giorni nostri tutti pubblicati dalla stessa casa la nostra storia inizia negli stati uniti nel 1974 sul piano politico gli usa stavano per subire un tracollo drastico per via dello scandalo watergate del successivo impeachment del presidente nixon sul piano culturale invece stavano avendo inizio alcune rivoluzioni che sarebbero andate a influenzare la cultura non solo nell'epoca ma che continuano avere un forte impatto sulla cultura occidentale fino ai giorni nostri il canale televisivo abc trasmette la prima stagione di happy days una serie di telefilm che andrà avanti poi per dieci stagioni e che molto probabilmente trovate ancora in replica il sabato mattina su qualche emittente locale quasi contemporaneamente a new york viene per la prima volta concretizzata alla cultura hip hop che porterà al rap che porterà la trap che porterà al crollo e la civiltà così come la conosciamo in mezzo a tutto quel marasma culturale c'era greg strafford un appassionato di fantasy e di wargame che aveva il sogno di diventare uno scrittore fin dal 66 aveva cominciato a lavorare su una propria ambientazione che aveva intenzione di utilizzare come base per un ciclo di romanzi ma le cose per lui non andavano bene i suoi primi manoscritti hanno stati rifiutati alle case editrici strafford era molto bravo a creare un'ambientazione coerente e un'ambientazione interessante ma sulle approvabilità come narratore non erano di pari passo non si fece comunque demoralizzare dal rifiuto dei suoi manoscritti anzi decise di cambiare focus se la scrittura non era quello che faceva per lui si sarebbe dedicato alla sua altra grande passione i wargame avendo un'ambientazione già scritta e dettagliata decise di utilizzarla come base per la pseudo storia di un gioco di strategia che lui stesso avrebbe creato anche in questo caso però trovo grandi difficoltà a farsi pubblicare anche se stavolta non era per colpa sua all'epoca il mercato dei wargame era quello che andava di più per quanto riguarda i giochi per adulti e questo aveva attirato molte case edit c'era una fortissima concorrenza senza contare lo scossone che il mercato aveva subito dal terremoto che era stata la prima edizione di Dungeons and Dragons che aveva portato molte case di pubblicazione ad entrare in crisi strafford propose il suo progetto per un gioco di strategia a molte case editrici tutte si dimostrarono immediatamente entusiaste ma tutte fallirono per via della concorrenza spietata prima di Puppeter concretizzare il progetto e sì bisogna ammettere che un po' di sfiga ce l'aveva. Oramai abituato ai contrattempi Stratfor non si fece sfermare neanche davanti a questo e come avevano fatto Gygax e Anderson prima di lui decise di fondare la propria casa di pubblicazione per poter pubblicare e distribuire il suo gioco. La ditta prese il nome di Causium e il gioco che pubblicò fu White Bear and Red Moon. Il gioco fu un grande successo e venne applaudito sia per le sue meccaniche molto precise lineari snelle in contrasto con la complessità barocca di quella che erano i war games dell'epoca ma soprattutto il suo grande pregio era proprio l'ambientazione che sembrava uscita da un vero e proprio impianto mitologico più che essere un racconto inventato per giustificare le scarmaglie del gioco. Stiamo parlando della mitica ambientazione di Gloranta che ebbe varie incarnazioni sia come gioco di strategia sia come gioco da tavolo fino a quando nel 1978 non uscì per la prima volta come gioco di ruolo vero e proprio. Runquest. Il successo del gioco fu immediato e sbalorditivo già a pochi mesi alla sua pubblicazione Runquest divenne il secondo gioco più venduto e diffuso sul mercato. Il rapporto che all'epoca si venia a formare tra Dungeons & Dragons e Runquest era molto simile a quello che attualmente abbiamo tra D&D Next e Pathfinder. Entrambi giochi di grande successo, entrambi molto diffusi, si contendono la cima del mercato anche se sono di fondo ispirati a filosofie di gioco molto differenti. A differenza di Dungeons & Dragons che ha sempre posto l'enfasi sulla spettacolarizzazione e sull'efficienza meccanica del gioco, Runquest si basava su un concept differente. Fu il gioco che diede origine all'intero filone del gioco simulazionista. Runquest cercava più che altro la verosimiglianza dell'azione e che le azioni all'interno del gioco venissero esposte ed eseguite in una maniera coerente e realistica. Per fare un esempio pratico, se in D&D esiste un generico tiro per colpire che va a contrapporsi a una generica classe armatura, all'epoca era ancora il taco. In Runquest esiste una specifica percentuale di abilità nell'utilizzo di un'arma a cui va a contrapporsi una specifica abilità nella parata con un'arma o nella schivata e se il colpo dovesse andare a segno esiste un valore di armatura che verrà sottratto ai danni inflitti in base all'arma e all'abilità che sia nel suo utilizzo. Un metodo di gestione delle regole sicuramente più lungo e complesso ma che ha il vantaggio di avere una meccanica molto più precisa e un'idea praticamente matematica di quello che sta effettivamente succedendo dal gioco, dato che non c'è nulla lasciato alla libera immaginazione dei giocatori. Per quanto oggigiorno il basic system, così si chiamava il motore del gioco di Runquest, ci possa sembrare lognoso e lento nell'essere applicato, all'epoca fu considerato enormemente innovativo. Più che altro perché le sue meccaniche simulazioniste andavano a permettere un controllo del gioco molto più lineare e una descrizione molto più accurata di quello che accadeva in gioco che dipendeva molto meno dalle decisioni arbitrarie del master. A riprova del grande successo e dell'accessibilità del sistema, la Causium negli anni successivi pubblicò e riuscì ad assicurarsi una serie di licenze per giochi di ruolo e ambientazioni che ancora oggi continuano a essere ripubblicate e giocate in tutto il mondo. Il secondo gioco che la Causium pubblicò fu Final Frontier, ispirato alla serie originale di Star Trek di Roddenberry. Poco dopo, sempre nel 78, uscì Strombringer, basato sui racconti del ciclo di Elric de Maldibonet di Morcoc, uno dei giochi più venduti, diffusi e giocati durante gli anni 80 e 90. E ovviamente anche l'indimenticabile The Call of Tulu, basato sull'horror decadente olirico di Lovecraft, che fu il primo gioco horror vero e proprio ed è una pietra migliare per quello che riguarda i giochi di ruolo, che dal 78 in avanti continua a venire ristampato in varie edizioni. Questa è la quinta degli anni 90, ma nel 2015, se non sbaglio, è uscita la settima edizione. Insieme a questi giochi uscirono poi un'altra quantità, dozzine e dozzine, di altri prodotti che sarebbero successi alternati, ma mi limito a citare solo Final Frontier, Strombringer e The Call of Tulu, perché sono pietre migliari del gioco di ruolo, senza togliere agli altri ognuno di essi avrebbe diritto a un video di storia dedicato solo a lui. Il successo maggiore però che si possa imputare la Causium è quella di essere sopravvissuto al suo più acerrimo nemico. Mentre la TSR, quando il mercato dei giochi di ruolo andò in crisi, fu costretta a vendere, fu accorpata alla Wizard of the Coast, la Causium continua a essere un editore e un publisher indipendente tutt'oggi. Negli anni 90 affrontò anche lei una serie di problemi economici dopo un fallimentare tentativo di entrare nel mercato dei giochi di carte collezionabili. Ve lo ricordate il gioco di carte di Doom? Ecco appunto. Nel 2015 poi si è completamente ripresa con la settima edizione del Richiamo di Cthulhu, che per essere un gioco così vecchio nel tempo e soprattutto così di nicchia perché è un horror, ha ricevuto molti più premi e citazioni di quello che sarebbe stato legittimo credere e attualmente sta avendo un grande successo di vendite come publisher per la seconda edizione di Seven Seas. Il sistema di base di Seven Seas, il Keep and Roll, è una specie di ibrido strano tra un gioco di ruolo meccanico ma con una forte componente narrativa. È qualcosa di abbastanza interessante per chi è appassionato proprio di giochi di meccaniche del gioco di ruolo. Non è un'ambientazione originale Causium, ma la Causium l'ha acquisito e ha appunto raffinato le meccaniche e fatto uscire la seconda edizione per chi fosse interessato se non sbaglia in Italia o distribuisce la Need Games. Mentre preparavo il video ho anche sentito voci non confermate di altre possibili pubblicazioni della Causium, ma ne parleremo poi se escono o quando escono. Diciamo che per questo video è tutto e con questo si conclude anche la terza stagione del canale del Mastercae. Come ogni anno mi prendo il mese di agosto di ferie. Non vi preoccupate comunque il canale continuerà a pubblicare contenuti come ogni anno. Agosto è dedicato al modellismo. Quest'anno vedremo assieme come creare artigianalmente un dungeon tridimensionale. Più avanti in settimana poi probabilmente farò uscire un altro video per discutere insieme a voi il destino di alcune delle rubriche del canale, ma ne parliamo in un video separato. Voglio tenere i propri commenti separati per una questione di ordine. Quindi ci sentiamo tra qualche giorno, non so dirvi esattamente quando. Come sempre comunque se avete domande, dubbi, perplessità o domande su questo video scrivetele nei commenti qui sotto. Se il video vi è piaciuto mettete un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale. Schiacciate la campanella per ricevere le notifiche. Io sono il Mastercae, ci vediamo alla prossima stagione.